Il sogno di San Giovanni Paolo II di una Europa unita capace di respirare finalmente a due polmoni è più vicino oggi che dopo la caduta del muro di Berlino perché in questi 28 anni di storia Oriente e Occidente, Chiesa e Politica hanno cominciato a parlarsi sotto l'impulso di pontificati illuminati con il merito di saper riconoscere nel dialogo interreligioso e nell'ecumenismo il vero ponte tra mondi, culture e identità distanti. Lavorare su più fronti alla realizzazione di questa infrastruttura della pace e della riconciliazione è lo scopo del Centro Polacco-Russo del Dialogo e del Consenso che ha promosso a Roma una conferenza dal titolo La Santa Sede verso la Russia e la Chiesa Ortodossa Orientale da Giovanni Paolo II a Francesco. Il presidente del centro Lukasz Adamski. Il centro per il dialogo e la comprensione tra Polonia e Russia, istituzione pubblica creata dal Parlamento polacco, è interessata a promuovere ogni forma di dialogo per diffondere anche la nostra esperienza che ha contribuito a risvegliare la Russia, a superare alcuni pregiudizi e ostilità verso l'Europa occidentale. Siamo anche interessati a promuovere politiche a supporto di Ucraina e Bielorussia, soprattutto dell'Ucraina che oggi deve affrontare un'aggressione cruciale. Ora i maggiori ostacoli non sono le questioni dottrinali, ma i molti pregiudizi e la mancanza di fiducia. La strada del dialogo e del perdono tra i cristiani di ogni confessione aperta dal Concilio Vaticano II non deve essere mai interrotta, afferma Monsignor Tadeusz, con Drusievich, arcivescovo metropolita di Minsk, convinto che gli ostacoli debbano essere rimossi non sui tavoli né dai pulpiti, ma stando tra la gente, riaffermando l'unica radice in Cristo, a prescindere dai dogmi e dai primati che cattolici e ortodossi continuano ad affermare. Non possiamo dimenticare storia, ma nove generazioni parlano in un altro modo, poco a poco, riconoscendo i suoi peccati. Anche noi, della nostra parte, della parte della Chiesa Cattolica, Giovanni Paolo II ha fatto tante scuse, Papa Francesco, tutti oggi capiscono che non possiamo vivere in una separazione, dobbiamo essere uniti. Poco a poco, passo a passo, non si può dire che da oggi costruiamo la nuova vita. Sì, costruiamo la nuova vita, ma per costruire questa nuova vita ci vuole il tempo. Giovanni Paolo II, con le sue azioni decisive per il collasso del comunismo e della cortina di ferro, con i suoi viaggi nei paesi dell'ex Unione Sovietica per ricucire lo strappo con Mosca, Benedetto XVI, con le sue encicliche, i discorsi, i libri tradotti in russo, infine Francesco con l'abbraccio al patriarca Kirilla Cuba dopo 963 anni dallo scisma del 1054, tra cattolici e ortodossi e poi la visita a Mosca in agosto del segretario di Stato, il cardinale Parolin. Questa, sostiene Monsignor Kondrusiewicz, è la chiesa che non smette di dialogare. Papa Francesco ha fatto un grandissimo passo, questo incontro a Ravana ha aperto una nuova pagina delle relazioni tra la chiesa ortodossa russa e la chiesa cattolica. Questa dichiarazione è comune, io direi un programma pastorale per tutte le nostre chiese, perché oggi viviamo nel tempo delle grandissime sfide, sfide molto pericolose, pericolose per il mondo, per la pace, per la giustizia sociale, anche per il cristianesimo. Oggi dobbiamo ricordare e ripetere queste parole di grande Shakespeare, to be or not to be, essere o non essere per il cristianesimo, dobbiamo difendere oggi insieme.